Io che amo Cari amici di Libri che passione Finalmente ci vediamo Almeno voi mi vedete Io non mi vedo ma vi immagino Sono appena arrivati i peperoncili della Calabria E i pezzuti Head della Calabria E mi ha portato Edoardo Barcazia Che è il numero uno No grazie davvero per il vostro affetto Grazie a te Grazie a te